Ciao ragazzi e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, questo è un video per mostrarvi tre acquisti, tre rossetti che ho acquistato appunto da MAC però ho acquistato sul sito, ne ho acquistati quattro però uno era un regalo, era mer e l'ho regalato alla nipotina di Antonio nipotina a 14 anni, quindi alla nipote di Antonio io l'ho acquistato questi rossetti perché sono usciti con la collezione Fashion Pack di cui io già mi ero innamorata avendo visto l'anteprima su una ragazza su Instagram che si chiama Tremood, non ricordo comunque ho acquistato appunto tre rossetti di quattro se non sbaglio allora il primo è quello che ho indosso, è un Amplified ed è il By Special Order è questo, vi faccio vedere lo swatch è un Amplified quindi è molto cremoso, è un colore fucsia rosso è una miscela tra il fucsia e il rosso e secondo me è anche una punta di corallo, non lo so, è molto molto bello è stupendo per l'estate, è molto cremoso essendo un Amplified, sapete il finish Amplified di MAC è uno dei miei finish preferiti soprattutto quando magari ho le labbra un po' più secche, mettete su questi rossetti e andate tranquilli il secondo Amplified che ho acquistato è questo qui che si chiama Stylist Stip questo anche questo colore è stupendo dall'anteprima lo vedo un viola abbastanza spento invece è un viola quasi orchidea direi è un bellissimo viola ora vi faccio lo swatch io lo vedo un po' più spento, un po' più grigio dall'anteprima devo dire che non è affatto grigio questo rossetto, anzi ha una componente proprio di viola e anche un bel po' di rosa all'interno molto molto bello e poi il terzo è l'ultimo che è un matte si chiama I'm for Gorgius che è questo e questo è un matte ed è un rosa bellissimo io pensavo dagli swatches che avevo visto su Google che su di me poteva essere un po' smortino invece devo dire che mi sta benissimo e questo è il colore è un rosa abbastanza acceso però anche con una punta di fucsia che lo rende un po' più cupo è un po' più cupo del bisilli per intenderci quindi non è un colore sparaflesciato sicuramente è un colore che va molto bene per la stagione estiva primaverile estiva però è fantastico e niente, questi rossetti sono costati 19 euro al rossetto di questa collezione ho acquistato solo questo e niente, fatemi sapere giù nei commenti se anche voi li avete acquistati se li avete visti in negozio non so se ne sono usciti nei negozi comunque mi sta avvenendo uno starnuto che sto cercando di trattenere in tutti i modi comunque e niente, fatemi sapere se questi rossetti vi sono piaciuti se li avete provati che cosa ne pensate tutto quanto e niente, io vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao